Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo La Perseveranza. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Bisogna sempre operare il beneficio santo della vita che riconosce nel sociale la ricca teoria del degno lavoro. Quindi bisogna sempre dare il meglio di se stessi, continuare giorno dopo giorno migliorando e dimostrando intelligenza, qualità e sapienza. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La Perseveranza. Bisogna sempre operare per il beneficio santo che riconosce nel sociale la ricca teoria del lieto evento. Bisogna continuare sempre ad operare nella bontà che ci saprà offrire il seme vivo della cristianità. La perseveranza ai valori riconosciuti nella fede offre i suoi lodevoli splendori per chi vive e crede. Sarà soave il poter affermare il fedele impegno della vita che ci donerà umilmente una rica e forte riuscita. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.